Ma cosa fai? Stampi moneta, fai il debito, ma scusa tu i soldi dove li trovi, al di là nelle trasmissioni e degli spettacoli. Ma sei fortissimo, ma sei veramente forte. Ma cosa fai? Stampi moneta, fai il debito, ma scusa tu i soldi dove li trovi, al di là nelle trasmissioni e degli spettacoli. Ma sei fortissimo. Grazie a tutti. Non sarebbe ora di fare qualcosa per il signoraggio Pancario, signor Ministro. Non sarebbe ora di fare qualcosa per il signoraggio Pancario. Eh? Di denunciare il pazzo in bilancio di Banca Italia non sarebbe ora? Oppure ci rimettiamo le piccole opere. Il pazzo in bilancio di Banca Italia non ne vuole parlare un pochino, signor Ministro? Ci volete continuare a prendere in giro così, signor Ministro? Signor Ministro, non ci potete prendere in giro per sempre? Signor Ministro? Credete di poterci prendere in giro per sempre, signor Ministro? Il pazzo in bilancio di Banca Italia, signor Ministro Tremonti, ne vogliamo parlare un attimino? Di signoraggio Pancario? Siete anche voi amici delle banche? gemellare le banche? Signor. 보 dipenden au bambine si Grazie a tutti